Salve a tutti gente, sono Dave, siamo tornati su questo nuovo episodio di Minecraft, un episodio 170.714.21.77.90.429.70.11.041 E oggi è l'unedì 25 febbraio, no, in realtà è giovedì 21 febbraio che sto registrando in questo video Perché, non lo so, ho visto ieri la 6.10, ora stavo riguardando il video, la musica del video mi ha caricato E quindi ho detto, vabbè, siamo a registrare, però non so che cosa fare, e non lo saprò mai nella vita Quindi ci limiteremo a perdere un po' di tempo, perché veramente non so, cioè, veramente non avevo video per questo E allora ho detto, vabbè, facciamo un po' di cazzeggio, però niente Non si può, non si può, quindi andiamo a passeggio e cerchiamo cos'altro fare Un'idea cellulò Facciamo un video scopettino, dai, scopate pollicini, scopatemi E ma che vuoi fare, una cosa tua? No, pollicini, spolliciate Uh, wow, cazzone, cazzone Abbiamo fatto un video hot, un video su Minecraft molto hot Con l'uscita di Sauros, un calac, che si assedisce che lo voglio ragazzi Donatemi 1.000 euro che mi compro il calac, che si assedisce, ok? Grazie, gentilissimi, troppo gentili Anche le mucchette vogliono fare zuggi, zuggi, zuggi Zuggi, zuggi, mochetta Zuggi, mochetta Zuggi, mochetta Zuggi, mochetta Mucchetta Dov'è anche, mochetta? Ho detto, faccio fare zuggi, zuggi con quest'altra mochetta Mochetta, mochetta, zuggi, zuggi, brava, mochetta, zuggi, zuggi Ora andiamo zuggi, zuggi, anche delle piccolelle che si mettono, eh Insieme qui delle piccolelle, adesso delle piccolelle riproviamo a fare la marrone con la bianca Sperando che resta un altro marrone di meta Marrone, marrone di meta, color merda, la voglio color merda Mi hai fatto nervosire ragazzi Mi sono nervosito, mi sono nervosito Volevo la pecola color merda e me l'ha data bianca Che cattiveria assoluta Impara, imparata la prossima volta Mi chiedo ja la peccola color merda Dovrei, dovrei, dovrei Finalmente non ti calzeggiare Se finisco di calzeggiare però vi chiudo il video Cosa volete fare? Volevi che continuate a calzeggiare? Ascopazzo qui in live, in video, in lift In pop a ripeni Bam 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 Io non ho fatto più una peata Mi, mi, mi Miseria, mi se Non ho fatto la miseria ragazzi Non so che cavolo fare Perché c'è tutti i miei Tutti i progetti che mi passano per la mente Ci vuole una miriade Di miri Miri Una miriade di te Porca pelita ragazzi Aiutatemi voi Ah ecco cosa ho trovato Questa bellissima mafa del tesoro Mi è stato detto da uno di voi Che dove subito sotto la sabbia Quindi questo significava Che io dovevo Anterrarci E io invece Dare sott'acqua e prendere La rompermi la sabbia e scavare Al primo bloc Quindi dobbiamo andare a fare un po' di mission Sott'acqua Andiamo verso nord e ci diamo Troppo colli quando dico Inizia a scompare con l'angolo Di mappa Non è velocemente E poi c'è il villaggio dove abbiamo anche il nostro cartografo Non lo dimentichiamo mai nella vita E ora andiamo Ora andiamo Ora andiamo A prender il tesoro Ora andiamo Ora andiamo Ora andiamo A prender il tesoro Se ci facciamo Un bel bagnetto Nel fiume che Passa qui vicino Un bel bagnetto Ciao signor Un bel bagnetto Eccoci qua A destinazione Siamo arrivati Che è bello che è bello che è qua A destinazione Siamo arrivati Che è bello che è qua Devo andare più a noi Però Io lo che mi ricordi Io qua l'avevo scavita Un pochettino E non ce l'ho trovato Un che Un che Un che vuol dire niente Quindi ora O il mio utente Mi sta Mi ha preso il giro Ma c'è ancora il bug Sì Diciamo di sì Diciamo che c'è ancora Diciamo che c'è ancora Ah ma le perdo Ok Vabbè Mettiamo per ipotesi Che io sia a questa altezza qui Più o meno No No Ok Quindi ho scavando Eccola lì Eccola lì Oh verità Por Porca paletta ragazzi Tanto oro Tanto E che Che cos'è Cuore del mare Cuore Non so cosa sia Ragazzi Ringraziamo tutti Ross Per averci Regalato questo episodio Perché se questo episodio È stato fatto Grazie a Ross Che ci ha fatto scoprire Il cuore del mare Il cuore del mare Che caccio è sto cuore del mare Ross Se stai riguardando Anche questo episodio Ehm Sape che Tu sei pubblicamente Invitata Ufficialmente A far parte di questo video Se vuoi In questa serie Di Minecraft Ehm Tutto il tempo che vuoi Nel server Senza limiti White list A tempo indeterminato Ti ringrazio Ti ringrazio per avermi Ti regalato questo episodio Cazzarola Questo episodio Questo episodio È offerto da Ross qualcosa Vabbè Mi riporto Proprio Proprio Vedere il commento Rispondo E Ragazzi Cioè Un episodio Io questo episodio Non dovete ringraziarmi Dovete ringraziare Ross Se c'è Perché altrimenti Io l'avrei buttato Questo episodio Che cazzo è successo un pochino E poi l'avrei buttato L'episodio Perché non avrei fatto un cazzo Però ho trovato Il cuore del mare Ho trovato Tutti questi Due diamanti Cioè due diamanti A me bastano Io penso Fosse un terzo diamante Quello Cioè Ho scoperto Sto cuore del mare Che adesso Non so cosa sia Rossa scrivimi nei commenti Che cosa era Il cuore del mare A cosa mi serve Perché io non seguo Ragionamenti Porca Paletta Ho avuto paura Perché io ricordavo Che da qualche parte Eccolo qua C'è un burrone Tu sei un asino Va Infatti Burrone C'era Ragazzi Questa è una cosa Spettaculata Qui avevamo un altro burrone Con la lava che scende Che bello Siamo tornati A chiesa Aspettate un secondo Io mi devo fare Una monica Devo farmi proprio Spam Grazie La pelle così È il primo tentativo Che devo farmi Let in frame E ci mette sta mappa Che ormai È già scoperta All'interno Ora la butteremo Da qualche parte Ce lo so I tempi L'abbiamo fatto Andiamo così Adesso andiamo Aspetta che è notte Mettiamoci a dormire Adesso poi tiriamo tutto Andiamo a posto Per faremo una bella cosa Sprecheremo la cesta Cioè noi abbiamo fatto questa cesta Ora faremo Qui Qui In questo punto Mettiamo la cesta Mettiamo questo Prendiamo Potevo volere Mare F Lo so Infatti era meglio Se la messi E lo mettiamo così Mappa del tesoro 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 Se non ce lo mettiamo dentro Che cacchio di tesoro è E c'abbiamo questo Qui dentro Ora Per rendere il tutto più bello Tutto mucio mucio Quello Cosiamo questo oro Così In gotti di ferro Almeno non utilizzo No? Piri 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 Vabbè si è così C'è il primo Quindi ha preso Ma doveva essere di platina Ma non credo di avere 30 diamanti Devo mettere qua dentro Se ce li ho Metto i diamanti Se ce li ho Metto i diamanti Se ce li ho 27 meno 1 26 diamanti Dai Se ho 26 diamanti Metto i diamanti Non ce li ho Allora appena ci arriveremo Metteremo Quanti gli esmeraldi Ragazzi dobbiamo fare la corsa agli esmeraldi Corsa agli esmeraldi Nel prossimo episodio Corsa agli esmeraldi Per metterli lì dentro E non vedo l'ora Non vedo l'ora Quindi Ancora una volta Vi ringrazio Ross Per averci aiutato Con questo video Per averci fatto registrare Un video Che altrimenti Questo video Ripeto L'avrei buttato E ci vediamo In un prossimo episodio Soltanto se avete lasciato Mi piace Un pollice Un commento Qualsiasi cosa Lasciate Qualsiasi cosa In chat Dove volete voi Perché veramente Abbiamo fatto qualcosa Di eccezionale Veramente Grazie Grazie a tutti